I carabinieri di Bassano salvano un anziano che voleva togliersi la vita. L'allarme alla caserma di Via Emiliani è arrivato venerdì sera da una donna che molto agitata riferiva che il padre, 72enne, le aveva inviato un messaggio dicendo di voler farla finita. I militari, che nel frattempo hanno allertato il 118, hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo. Trovando la porta chiusa, sono saliti in terrazza al primo piano e sono entrati in casa forzando una finestra. Dentro l'anziano era seduto su una poltrona in stato confusionale. Ai suoi piedi quello che rimaneva del cocktail di alcol e farmaci. Arrivata l'ambulanza del suo è stato trasportato in codice rosso al San Bassiano.